Allora Traspigame L'Architect è una trasmissione in cui non vengono maltrattati animali o geometri che poi è la stessa cosa. Oggi veramente vi devo dedicare poco tempo perché sono pieno di impegni fino a qui. Qui tra happy hour, vernissage, gallerie d'arte e inaugurazioni sono veramente pieno di lavoro per fortuna che ci pensa il tirocinante. Qui veramente ragazzi siamo pieni di lavoro tra progetti, planificazioni appalti, fili di progetti ovunque. Chi pensava che pagare le tangenti avrebbe cambiato così tanto le cose? Comunque anche un architetto del mio calibro può venire incontro a problemi di plebei come voi senza il minimo gusto estetico il mio curriculum è un'ecinopedia. D'altronde ragazzi oggi se bisogna essere competitivi in questo lavoro bisogna conoscere tantissime lingue. Ma mia per niente, per farsi capire in cantiere a muratori vi senti parla 10 lingue diverse. Capisci un cazzo? Giri per il cantiere e ti sembra di girare per 10 funzionali diversi. Ucci capisci una seca? Vediamo il video del nostro committente Tapino e dei suoi problemi di buon gusto. Ciao Duccio, sono Federico, un designer purtroppo in crisi. Quest'anno purtroppo ho prodotto un unico prototipo e spero proprio che riuscirà a aiutarmi a piazzarlo perché altrimenti dovrò chiudere battenti. Ti ringrazio, ciao. Allora, buonasera Federico. Esatto, buonasera Duccio. Sì, Federico, Federico. Federico, sì. Federico. C'è una grossa merda rossa sul mio tavolo. Ma questa? Questo è il mio prototipo. È una rivistrazione del famoso progetto degli anni 60 della polterona a sacco. Oddio, per essere un sacco è un sacco. Di merda ma è un sacco. Diciamo che potrebbe essere più uno sgabello sacco. Ah no no, però ha ragione. Ha ragione, in effetti ha ragione. Però che è giusto è giusto perché se una sedia si capisce che è una sedia, è una sedia. Giustamente. Se non si capisce che è una sedia, è design. In questo caso invece mi sembra proprio una merda inequivocabile. La siampe arma, la siampe arma. Io pensavo che se te mi dai una mano per brevettarla e lanciarla sul mercato penso che con questo progetto potremmo proprio fare le fiamme. Bravo Federico, bravo. Proprio qui ti volevo vedere. Stai attento perché io vedo che il tuo progetto ha veramente delle potenzialità. Permetti che ci faccio due o tre modifiche? Ci va così, no? Perché io vedo veramente che questo progetto può fare davvero le fiamme. Non ci credi? Guarda, guarda. Sono qua apposta. Ma cosa stai facendo? Il mio prototipo, il mio unico prototipo. Buona bassa, eh? Oh, benissimo. Allora, prima che l'incendio si propaghi, direi di chiamare il nostro tirocinante. Oh, ecco il nostro tirocinante che ci ha portato l'estintore appena in tempo, eh? Oh, grazie, grazie. Oh, grazie, grazie. Molto utile. Quali sono le novità? Del contrattino? Eh, certo che c'è una bella fantasia a te, eh? Mi parli sempre di questi termini fantascientifici. A questo punto, diciamo, mavetta spaziale, invisibilità, teletrasporto. Vai, vai, vai. Che stasera ci sarà consegna. Anzi, c'hai una consegna. Federico, che ne pensi del mio prototipo? Ma guarda, è una tragedia. È il mio unico prototipo. Beh, insomma, di che ti lamenti? Mi ha fatto le fiamme e la fatta. E poi voglio dire, eh? Beh, dai, era MR rimasta. Bene, Federico, grazie di essere stato con noi. Grazie per la giurale palle. Ah, a proposito, ti ho dimenticato dove... Mi piace fare del bene a chi è più sfortunato. Il titolo di architetto è tutelato dalla legge. È reato freggiarsi di tale titolo senza possederne le caratteristiche legali. Quali titoli ufficiali o iscrizione all'ordine professionale. Anche perché, ma voi riuscireste a ideare edifici simili? Via problematini! Piano, Renzo, piano. Dove sei? A Barcellona. Ah, e che c'è? Miss Van der Rohe. Oh, te sempre nelle fie stai, eh? Madonna, ragazzi, oh! Barcellona, le fie, eh? Cacciano le spagnole, eh? Ma è allone! Madonna, ragazzi, oh, te diggilo. Allora, eh? Oh, sta attento che quelle lì sono pericolose. Ho il portafoglio di quelle... A parte di essere di Gerber, ma lo sa bene. Eh, scusa un attimo. Trust me, amen, architect. Finisce qui, ricordatevi, fidatevi degli architetti. Trust me, amen, architect. Trust me, amen, architect. Oh, my God! Oh, my God! Grazie.